Mi chiamo Bevini Alberto, sono il Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Modena. Noi ormai sono 11 anni che partecipiamo a questi incontri, infattivamente con prima Bioecolab, poi con Bioecolab e Laboratorio di Domotica e successivamente anche con l'Agenzia dell'Energia e Sviluppo Sostenibile di Modena. Il nostro interessamento in questo campo è vario perché come periti industriali noi ci impegniamo e lavoriamo sulla progettazione di impianti sia termotecnici che impianti elettrici. I nostri iscritti hanno diverse specializzazioni come riportavo anche durante la giornata di oggi, però prevalentemente sono queste due le figure tecniche che sono maggiormente interessate in queste occasioni. Oggi è stata una giornata particolarmente interessante perché abbiamo sviscerato quelle che sono le difficoltà energetiche delle scuole e abbiamo visto che non solo in Italia ma in tutta Europa necessitano degli interventi per ridurre i consumi energetici e poi anche solo il pensiero che all'interno di queste scuole ci siano i nostri figli, il futuro delle nostre società ci spinge ad operare in modo più concreto e più incisivo rispetto ad altre situazioni che sono naturalmente importanti ma non tanto importanti come questa. Oggi si è parlato a largo raggio di diverse problematiche sia tecniche che economiche e credo che sia stata una giornata proficua e di questo dobbiamo ringraziare sicuramente l'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena che come sempre ha organizzato una gran bella giornata.